ciao a tutti ragazzi sono Ale34 e oggi ritroviamo il primo video del mio canale iniziamo con un video di Xenoverse insieme a kart98 buongiorno Antonio buongiorno saluto a noi potete vedere questo video sia sul mio che sul suo canale per ora questi contenuti di Takerano arriviamo per il primo video a 3 mi piace yes a me arriviamo chiedo 7 like 7 like mamma mia vedi a Gohan che come ti sei permesso Goku finisci male mo c'è tipo marissimo ti dovevi per me e tu sei Gogeta ci credo subseyan ma cosa perché non me l'ha preso stupido ecco te parate perfette fa Goku io sto facendo il culo a Gogeta se Goku non si facesse le parate perfette sarebbe meglio mi ha fatto sprecare il purificatore di anime ma questo vabbè che spiegato come vuolto chiamarlo oh e niente però sei finito di massacrarlo io sarei felice di te se lo lasciassi stare che posso fare un namo no mi ha fatto più sprecare ma me lo metti bene ma anche no ma anche sì cioè che cosa mi spieghi tu che cosa quando dove perché Gogeta contro Gogeta questo è clickbait no non è neanche questo clickbait mettiamo questo video lo chiamerò contro trafusioni lo finisco io lo finisco io lo finisco io l'ho finito io porco zolfo l'ho finito io ma invece no mi dispiace eh volevi volevi mai ma per l'incolio un pezzo di mercoledì Vegeta è un pezzo di mercoledì a mercoledì fare i te no pezzo di merende mamma mia ma perchè non mi fa la mossa con la figlia bella perchè non mi fa il calcio volante nooo no detto no a farmi il calcio volante alla tacloris dai vegeto è morto questo video che mi nasconde la funzione sinceramente c'è un bel titolo gogetta contro vegeto super saiyan e gogetta super saiyan posso intitolare io questo video tu lo intitolare così ma io no sono una merda non iscritta nel mio canale mi può saltare dare il mio boss che è il miglior canale mai fisito al mondo ah no quello di favij per esempio che c'ha 4 milioni no intanto l'ho beccato c'è guarda che come se muore non ti diamo se muore non ti diamo se muore non ti diamo vabbè non muoio tanto ti preoccupare tu di me ma dove quando perché muore non ti diamo ma io sto raggando me ne sono accorto tu raghi sempre non finisco io stronzo fai ma non ti diamo dai dimmi una conclusione su prima ghieaa eh sì mamma siamo morti ma siamo nella cacca non siamo nella cacca senti a me io vado a vegeta tu vado a goku no io vado a vegeta tu vado a goku vado a goku si capo e l'emozione e ma goku per favore ho messo la capsula rigenerante se la smette questo attacco della no ma non fa altro strano ma che no io sono rigenerata io sono fuori tu invece no mo le notate se è capito perché ti ho detto tu prendi goku perché fa sempre sta mossa ed è rompi ma fermo è un rompiscatole secondo te quanto verrà sto video? è vegeta a fare il colpo finale se hai ancora il tuo primo video non è che fare chissà quanto no secondo te quanto verrà sto video nel senso di minuti? ma se facciamo qualche taglio qualche taglio lo faremo sto poco ma sicuro per esempio e mo che stiamo parlando di tagli la taglieremo questa parte ma mi ha ripetito tre volte sta tacco ma dimmi che serra normale è che ti devo dire ma che monen ma che merda 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 mi piace E' stato proprio confermato dall'universo Io sto un po' cambiando in coreano Nella mia vita sto un po' cambiando in coreano Come intitolerò questo video? Attacco Ma se ti stai zitto forse è meglio? Che tiglio Fermo, 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 li faccio Li faccio E va Ma che stronzo Cioè questo si è stato fermo giusto per beccarti il purificatore Quello, il coso di Anne E alla fine no Ma che a me, ma dai Ma gli spavano, sperca mamma Oh grandissimo Vai dimmi che ce la faccio, dimmi che ce la faccio Dimmi che ce la faccio, dimmi che ce la faccio Ce la fu, non ce la fu per niente Cioè questo sai che mossa è la stronzo fa Si te la trasporta alle spalle Visto che io faccio il colpo Che lo colpisco là dietro Mi fa la mossa con l'acqua che le contrasta Uh no no scappa molto Grandissimo Che non c'ho più vigore Eh Merda io sto morendo Sto morendo Sto morendo Moro Moro Vegeta è quasi morto Vegeta è quasi morto Ego morto No non sei morto Vegeta è morto Se vendei una monocol Goku Io faccio contento Guarda quanta vita c'ho E me ne ti ti una capsula Scusami Non ce ne ho Ma do Non so che dirti Faccio prima pezzi Vegeta Poi Ti vengo a curare Però tu stai con Gojit La finisco io all'incontro Dai No Curami Se no non riesco a fare un buon video Va bene Proprio mucido Vegeta Perché se no Questa mi ha morto Sì fai la mossa con l'acqua Sì Sì vedete c'ho un casino di vigore Dai Vegeta Quando muore Ok morto Aia Goku Eh voleva Goku No Visuale Sì Allora Prova a fare uno più quadrato Non so come si fa Però tipo Tu perdevi Un pochino di vita E mi curavi istantaneo Dai Dai Vai Nice to be happy Sha la 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 Che cartella che gli stiamo dando E guarda con quanta vita Questo essere pro Guarda che stupido Che merda Ma che Ma dove Cosa è successo Chiore del video Yuten Ti ho distratto C'è un pelo di vita Ok Ah ci penso io Ci penso io Ci penso Penso io Ok ora ci penso io Sì Ah ah Aia Sempre sta mossa Che odio Che la facciamo Forse Forse Vai Vai Facciamo una super mossa All'ultimo 3 2 1 Via L'ho preso Solo Riproviamoci Riproviamoci 3 2 Muoro Dammi una mano Ma cosa Non lo colpisce Passamolo così No Gi Non so perché Mi ha finito La clip video Devo andare Ok ragazzi Spio che questo Ti è piaciuto Mi like Che c'è Al prossimo